Sì, siamo qui per rappresentare l'esecuzione di nuove misure custodiali grazie alla valida collaborazione fatta dalla Compagnia Carabinieri di Giulianova e con la coordinamento naturalmente della Procura della Repubblica di Terno che ha portato a rilevanti risultati con quantitativi rilevanti di spaccio di eroina, cocaina, hashish e l'accertamento di situazioni estorsive per posti in essere dagli autori che nei confronti delle persone che non provvedevano poi a pagare la droga che prendevano. Oltre un anno di attività, nel dettaglio, cosa è stato sequestrato? Allora, il tutto nasce da quasi 50 grammi di cocaina sequestrati, non ci siamo fermati lì e nel corso di un anno noi abbiamo sequestrato più di un chilo di hashish, 150 grammi di cocaina ed oltre 100 grammi di eroina. più svariate migliaia, anzi svariate migliaia di euro, di migliaia di euro, sì. No, le persone coinvolte sono tantissime perché le nuove sono arrestate perché comunque sono accusate poi di spaccio, di sostanze stupefacenti ma nel corso di questo anno noi per ognuno di loro abbiamo contato oltre 100 acquisti. Un'operazione è questa che non si ferma qui? È un'operazione di cui è la prima parte, i cui principali personaggi, non esclusivi, ma i principali personaggi è un gruppo di persone rom di particolare pericolosità sociale che ponevano in essere questa attività in modo continuativo, in modo molto diffusivo sul territorio e in modo molto pericoloso minacciando le persone che poi provvedevano a non pagare. È un'indagine che dura da circa, da quasi un anno, di cui ripeto, questa è la prima tranche.